Io sono stato invitato a fare una chiacchierata su Alceo, che è un poeta del settimo secolo, fine settimo secolo a.C., del quale abbiamo circa 400 frammenti, quindi una produzione frammentaria. Io cercherò di contestualizzare la produzione di Alceo e poi ho scelto alcuni carmi significativi legati soprattutto al tema simposiale e al tema politico. La poesia antica era molto diversa, non tanto per i contenuti quanto per i contesti socioculturali, per la funzione che aveva la poesia nell'antichità, che era molto diversa rispetto ad oggi. Il poeta era il custode della memoria collettiva, tramandava i codici dei valori, oggi non è la stessa cosa, assolutamente. Certo, di Alceo la passione, la vehemenza ancora può suscitare emozioni, interesse, questo sì, però non ne vedo l'attualità. Giusto in qualche carme dove segue il filone gnomico della liberazione dagli affanni e trova nel vino il farmacon migliore, ma tutto sommato.